Un convegno quanto mai interessante è non solo per la presenza di illustri personaggi, ma anche e soprattutto per l'argomento che è stato trattato, la corruzione, strumenti e mezzi per combatterla. Gli interventi di magistrati, avvocati, docenti ed amministratori hanno confermato la necessità di agire non solo sui funzionari, sui politici, ma soprattutto sui giovani. Nelle scuole ad affrontare l'argomento, nella scuola affinché si crei in un prossimo futuro una generazione che rinneghi senza sé e senza ma le azioni corruttive. L'Aula del Consiglio Comunale di Nocera Inferiore, Gremita, ha visto la presenza di un volto pubblico attento e partecipativo. Mancava però, come abbiamo detto, la componente giovani per i quali ci sarà sicuramente la possibilità in un prossimo futuro di poter partecipare ad un seminario che serve non solo ad educare, ma a partecipare e a diventare essi stessi i protagonisti nella lotta alla corruzione che tardi danni crea alla società e alla democrazia. La corruzione si combatte o con la cultura o si combatte con la repressione feroce e purtroppo io registro che in Italia ci manca sia la cultura, sia la mentalità e tantomeno la repressione feroce. È un discorso culturale, cioè noi dobbiamo partire dalle scuole, va bene i convegni, ma si deve partire dalle scuole, si deve partire anche dall'esempio. Cioè l'esempio, il cittadino, il giovane che magari chi ha la nostra età o se è corrotto è corrotto, se è onesto è rimasto onesto voglio dire, ma il giovane che si avvicina diciamo alla realtà deve avere degli esempi e se gli esempi sono quelli che vediamo per i giornali, per i telegiornali, dei politici, degli imbrogli, dove se il ragazzo vede che non c'è la meritocrazia, cioè dice io perché devo studiare per diventare bravissimo se poi ci sta il figlio dell'onorevole, del generale, della cosa eccetera che mi scavalca, allora cerco una scorciatoia. Appena si innesca questo meccanismo nei giovani di cercare una scorciatoia si crea il terreno di cultura per la corruzione futura. Io dico che vi è una sorte di morbosità, di attenzione che non segna diciamo in positivo ecco la possibilità di lavorare da parte delle amministrazioni pubbliche e crea un clima spesso di mero sospetto, di sospetto preventivo, di maldicenza, di dubbio e di diffidenza. Se noi dovessimo vedere le statistiche che registrano quante indagini, quanti processi vengano lanciati con gran clamore dai giornali o dagli organi di stampa, quante gogne mediate che si producono e quanti proscioglimenti, archiviazioni o assoluzioni si ottengono, il piatto della bilancia peserebbe decisamente sotto questo secondo piano, cioè della dichiarata innocenza di tante persone che nel frattempo si vedono rovinata la vita sotto il profilo individuale e personale. Ma soprattutto si getta un'ombra sperennemente negativa nei confronti di chi assolve funzioni pubbliche. Il paese Italia è un paese in difficoltà e io credo che molto è derivato anche dal fatto di aver disinvestito sulla scuola, non aver messo tutti in maniera salomonica sullo stesso piano, perché non ti puoi aspettare in frutto ciò che non vedi in fiore. Il problema è legato a lavorare sui giovani, sulle scuole, a rafforzarle, perché ogni presidio, la scuola è un presidio di legalità e sicuramente se viene a partire dalla famiglia e anche dalla crisi, quelle che sono la famiglia, la difficoltà di imporre certi valori di tipo positivo. Ovviamente nel sud il fatto stesso che ci sia stata una crisi economica che si è stata più accentuata, oramai in prolungata troppo tempo, questo ha creato terreno a offerti affinché certi fenomeni criminali. Però io sono un ottimista, chi mi conosce, di natura e quindi realtà belle come quella che io ho l'onore di rappresentare possono anche significare che può esistere un'altra realtà, un altro mondo, è un messaggio che c'è mai giovane di impegnarsi e che nella legalità, a differenza di quanto si pensa, potranno trovare le occasioni di successo. Ci vorrebbero più seminari, ma certamente ecco come ha fatto l'università di uscire all'esterno, di andare nelle scuole, di coinvolgere i professionisti e su questo posso dire che anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati può fare la sua parte con magari convenzioni, con scuole, con protocolli di intesa, con i comuni, ma dico non solo l'Ordine degli Avvocati ma anche quello dei commercialisti che sono dei tecnici.